E' domenica 21 aprile, tra qualche minuto la quattordicesima giornata, quinta di ritorno del campionato di Serie A2 hockey pista 2023-2024, completerà il suo programma con la sfida derby tra il Veneto Lab di Breganza e la seconda squadra dell'Hockey Breganza e opposta all'Hockey Club Montecchio Precalcino per il numero 88 di casa. Ancora Cristian Costenaro e Teruabiri all'indietro per Tommaso Volpe che ha spazio per lanciarsi. Tommaso Volpe che mette a segno l'undicesima rete stagionale. Tiro molto preciso. Battaglino alle liste, l'ingresso in pista di Edoardo Lanaro, figlia dei giocatori del Veneto Lab Breganza e qui. Una giocata del Pogob di Montecchio Precalcino, 1-1. Ancora Pozzo, Zanini, filtrante sui pattini di, sui parastinchi di Tommaso Volpe, di Battaglino. Ottimo, ottimo l'intervento difensivo di Edoardo Lanaro che poi viene agganciato con il pattino. E quindi il signor Marcolin sventola il primo cartellino blu della partita. Sul tiro libero diretto, il precedente è stato, è andato sul palo. Qui c'è la parata di Carlo Sanson, Tommaso Battaglino, la retta di Tommaso Battaglino, 2-1 per le ganze. 5-16, è stato lesto, è stato lesto a raccogliere la corta respinta di Sanson e Giovanni Taglia Pietra. All'indietro per Cristian Costanaro. E qui c'è un gol, il gol dietro i barbieri. Ben imbeccato, assist al bacio di Cristian Costanaro. Inversione anche assist man. Attenzione qui, ritorna Giovanni Taglia Pietra, viene stretto all'angolo. Qui c'è, vediamo, qui c'è il blu. Fischiamo, sventolato a Filippo Tiella. Filippo Tiella, contentare Tommaso Graziani intanto. La retta di Cristian Costanaro, 4-1. A premiare, non ce ne vogliono gli amici di Montecchio per il calcino. Adai Zanini contro Giuseppe Taglia Pietra. Atteniamo il fischio del signor Marcolin che avviene in questo istante. La parata di Giuseppe Taglia Pietra si rimane quindi nel punteggio di 4-1. A battere Carlo Sanson si rimane sul 4-1. E qui c'è il fallo di Cristian Costanaro che viene sanzionato col cartellino blu. In ogni caso, pronti a partire con Davide Zanini contro Giuseppe Taglia Pietra. Il tiro fuori, il secondo tentativo, palla alta, si rammarica. Si rammarica capitano Zanini. Ancora Zanini, la conclusione, gol! Il gol di Davide Zanini a premiare sicuramente una partita caparbia. Andrea Zanini. Palla vagante. Cattivo passaggio. Contro il piede per Braganze, Ettore Barbieri. Gol! Assistente di Dovado Lenaro. Tiro di prima, di prima intenzione di Ettore Barbieri. Raiti di Tommaso Volpe. Tommaso Battagli e Cristian Costanaro. Gol di Montecchia per Calcino però. La doppietta di Nicola Pozzo si riavvicina la formazione ospite. Braganze che ha spazio per ripartire. Cattivo controllo e qui c'è un'opportunità ghiotta. E la rete di Montecchia per Calcino. Deviazione sfortunata. Il gol è assegnato a Franco Giuliani. 1,36. Conquista palla Cristian Costanaro. Con i propri colori. Giovanni Tagliapietra. Cristian Costanaro. Il palo. La rete di Giovanni Tagliapietra. E' qui. E' qui Braganze. Sicuramente mette una serie di ipoteca su questa partita. Farci vivere 48 secondi. Trilling. Vediamo. Del finte di Franco Giuliani. La rete di Franco Giuliani. E quindi la partita si riapre assolutamente. A 45 secondi.